Buongiorno, sono Maria Iftimoaia, sono un'abbracciante agricola, lavoro in un'azienda che si occupa della trasformazione degli ortaggi e sono una leader Action Aid Italia. Noi come leader siamo qui per dar voce e sostegno alle donne che non possono farlo. Vogliamo essere quello che noi, quello che io, quando sono arrivata qui 16 anni fa, avrei voluto trovare qualcuno che fosse un punto di riferimento per me. I nostri sportelli Action Aid hanno luogo presso la Camera del Lavoro di Gino Samarina e presso un ufficio adibito appositamente a Schiavoneia. Le donne si rivolgono a noi per problemi che incontrano quotidianamente e noi trovano un punto d'appoggio appunto. Presso i nostri sportelli le donne trovano aiuto e sostegno, soprattutto quelle appena arrivate che non conoscendo appunto la lingua, la mediazione linguistica che noi offriamo tra loro e gli uffici pubblici, varie associazioni, magari la sanità. Cerchiamo di fare un po' qualunque per venire l'incontro. Io spero che le donne vedano in me quello che io non ho mai visto in nessuno, un punto d'appoggio. E voglio dire a tutte quelle che hanno bisogno che io sono qui. Action Aid è qui e finalmente abbiamo la possibilità di esprimere i nostri pensieri, di chiedere aiuto perché qualcuno ci sta ascoltando. Grazie. Grazie Grazie